Ehi, tu non sei un elefante, sei una principessa? Ehi, scopo la giraffa! A culo la patata! No, troppo! Lo sente anche lei, barone? Gli uccellini! Deve dire gli schiamazzi, non gli uccellini! Ma io lo rifarei! Partiamo da qua! Quest'anno cercheremo di dare sfoggio alle nostri... Delle nostre! Delle nostre! Quest'anno cercheremo di dare sfoggio alle nostre potenziali... Che c***o! Si da sfoggio delle, non si da sfoggio alle! Scusa, ero c***o! Conte, guardi, le ho mandato... Bomba ragazzi! Cosa sono questi schiamazzi? Sono urla schiamazzi! Stop! Alla spaccatura! Mi sono dimenticato! Cosa facciamo? Io sinceramente inizio ad avere un po' di paura! Anche io? Siamo forse conigli? No! Siamo elfanti! Perché un vero gentiluomo non si fossilizza su affari... A quattro ruote! Pfff! Quest'anno infatti ci sfideremo su tre discipline! Eh! Visto che noi siamo uomini da fare... Ci si confà! Certo! Beato chi lo fa il confà! Esatto! Sì! Cominceremo a turno a mostrare i nostri... Pfff! Sono vivi! Sono vivi! Testa! Diamo quindi il via a queste edizioni delle Nord... Diamo quindi il via a questa edizione delle NordVPN... Por... Però se... Però così... Ma non diamo un giudizio? Beh... Lo dobbiamo essere credo! Sempre sul pezzo Barone! Complimenti! Mi fa ridere il lato! Attraverso il sito che vi lasceremo qui con il link in descrizione avrete anche 5 euro di sconto! Allora... Intanto il codice ve lo levate dalla testa! Beh... Io vorrei anche ringraziare... Chi? Mi chiama! Come si chiamerà? Ringraziamolo! Beh... Vorrei anche ringraziare... L'Aspria! 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 L'Aspria? Rifalla, rifalla! Beh che dire ora e in primis ringraziare il club Aspria... Harburg... Aspria Harburg Club! Aspria Harburg Club! Aspria Harburg Club! Grazie a tutti e Mauri il club! Va bene! Partito! Partito! Ciao sono Aura! Aspetta! Aspetta! Deve stare in via lui! Ha detto partito! Partito il motore! Scusate non sono del mestiere eh! Abbiamo il principe in posizione... Ricordo per correttezza che il veicolo... Grazie! Ha 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 ha! Bene allora io direi... Aspetta un secondo... Facciamo un ciak per tutta sta roba qui... Ok... Sì mi aspettavo di meglio... È inutile che continui a doppiare... Tanti video me li vidi... Siamo noi amici! Sfermiamo questo scempo! Ri... Sce... Scempio! Attenzione! Vabbè ma qui... Cancella! Un uomo ricco di difetti... Un uomo ricco di difetti e privo di pregi... È qui con noi... Ovvero la speciale bottiglia... Con la quale potrete... Aromatizzare... Aromatizzare l'acqua... Con svariati gusti diversi! Oh... Oh c***o! Ma va avanti! Pensavate stessi bleffando invece... Ve l'ho piallata nel... Oh perfetto! Testa di cuoio... Per un gran... Testa... Di ca... Beh... Ecco... Volgarità! Ma è possibile! Riformulo! OMG! Ma il... Il ca... Ma come? No dicevo... Oibo! Io profumo quindi! Sì! Sì! Doppia coppia! Doppia coppia! Che è sempre meglio di un dito in cuoio! Quando si è in quattro qualcosa in cuoio... Può sempre arrivare! Vi devo dire! Io a lei mettere la lingua veramente... Anche nel buco... Ma lei l'ha fatto preventivo! Sapeva già! Microfonista! Microfonista amazing! È pronto fonico? OMG! Amazing! Mi sente? Noi abbiamo il primo... Fonico sordo! No no! È sardo! Ah! Principe vada lei! Una giamadosca! Stradio ti sta uccidendo la vita da qua con gli occhi! Signore è po... Trovano sto boom sempre in campo! Eseguito tra l'altro da una persona ancora più fastidiosa del suo mastello... Un applauso al nostro regista! Ciao Paolo! Paolo amazing! Che cazzo è matto! Pelato di m***a! Perché? Un leggero imbarazzo anche da parte del regista che non sa che cosa fare... Come entrare! Urla di disperazione... Lei Duca preferisce donare o ricevere? Prendo spunto da un grande calciatore e quindi io preferisco chi dona doni! E se non lo scopriremo lo scoprirò molto bene! Vado a sedermi! Quindi lei usa bambini cinesi appunto? No! Sono arance! Non mandarini! Questa vale 100! Regista c'è inquadrati? Ma lei è un... Ah! Lei ha mangiato anche il lavalier! Che ci è successo? Complimenti! Un lavalier amazing! No no! È d'oro! È un lavalier dello zodiaco! Io lo passi! Io lo passi! Grazie! Vabbè Duco che dici? Andiamo noi a fare da... Arbitri! Beh! Se fai l'arbitro il vestito è di rigore! Allora! Io parto subito con le note! Prima di partire con le note! Abbiamo la presentazione dell'abito! Esatto! Magari le presento l'abito! Vuole che vada a casa! Non so! Sicuramente era il mio posto! Non abbia questo atteggiamento passivo-aggressivo per favore che non fa bene né a lei né a noi e poi il barone piange! Vedo molto bene! Ma allora veda di stare zitto quando non serve! Complimenti! Prego! Lei è stato mandato a cacare dal barone! Pensi come è messo! Lei maestro cosa dice? Eh ma il Cile è finito! Lei non può continuare? Un po' di più non si può! Non ti arrabbiare! Jack è ubriaco questa sera! Tranquillo tranquillo barone si contenga! No erano veramente comunque pirulette di barone! Non era roba! Hai appena ingerito dell'ecstasy! Porca faca! Eh no! Compa meno un infarto! No! Thomas muori con quella roba lì! No Thomas! Muori! Una persona! Allora! Non sembra ma gli vogliamo bene! Tu sei fatto di ceramica dentro! Lui è normale e muore! Come i water! Non l'hai fatto! Porca miseria! Bevi! No va bene? Ritorniamo che Mori dice il coso? No rifacciamola! Perché? Vuoi fare un secondo take? Potremmo farla! In questo caso il rilancio dovrebbe essere fatto minimo così! Per regola! Ah! Ma Conte! Ma lei mi scivola sulle regole base del Texas Hold'em! Una piccola gaffa! Mi si può forse incriminare? No! E allora andiamo avanti e facciamoci i catti nostri! È una volta la sedia! È una volta la limba! Vediamo! Carpaccio! Noi il Conte e il Principe saremo i giudici! Intelligibili e infallibili! Per un attimo ho temuto intelligenti la cosa! No no no! Non sia mai! Già mi hai dato mezzo chilo di wasabi! Ma lei è la sua acqua! No! Siamo off camera! L'anno prossimo ti attacchi al c***o! Non verrò mai! Io la ringrazio veramente! Regalo più accurato! Oddio! Mi dia la testa del bipede! Eh! Me la immaginavo! Comunque! No! Se volessi a dirla nella scampagnata! Magari! Scusi! Mette una pallina in bocca per favore! Certo! Sono qui per lei! Vuole ricambiare? No 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 no! Grazie! Conte! Meraviglioso! Principe! Eccezionale! Barone! Che dire! Niente! Se devo ringraziare qualcuno io devo ringraziare voi! Assolutamente! Voi! Attenzione! La punta della gravata accarezza il prepuzio! Se posso permettermi non è l'unica cosa che sta ciondolando in questo momento! Caspiterina! Se faceva schifo il sopra e il sotto non è per niente da meno eh! Beh! Direi che la prima coppia a partire come è... Com'è? Sarà proprio il... Lei stia zitto! Noi saranno... Che producessero ghisa! Porca madosca! Se potesse fare un attimo di attenzione ho anche il tremore alla voce perché ho visto tutta la mia vita in veramente due secondi! Mi è passato tutto davanti! Mi è passato tutto davanti da quando mi hanno battezzato! Da quando mi hanno battezzato! Peggio della moto! Non capisco come mai... Come si fa... Senta! Lei può andare a fan... Ti ho sfiorato? Ti ho preso? Ci sei arrivata tanto così dal cranio! Poi Dio è che è intervenuto! Sì! Possiamo metterlo in post produzione! Grazie! Grazie! Non ci sarebbero mai arrivati questi idioti! Lei mi monta già il video! Eh! Specialmente Claudio quel fannullone! Ma non sarà magari il calice... Ma non sarà magari il caso di... Ma non sarà magari il caso di ordinarne un po' anche noi! E abbiamo la sigla di passaggio! Veramente... Incommentabile! Non ci sono parole che... Vedi! Malvetto! 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 Non so se siete mai stati in sala giochi che ci sono quei classici... Eh! Quei classici! Quei classici! Ma non siamo in sala giochi! Quei classici! Preferisce del country? Preferisce un ukulele? Ukulele? È praticamente l'autoradio! Appunto perché lei mi è partito come sono partito io! Sono perso! Cosa ho scritto? Non ci preoccupi! Mamma amazing! Non amazing! Tutto amazing! Mi sono trovato obbligato! Com'è piacevole guardarla! Ciao! Io non mori! Faccio YouTube! Iiiiiiii! Eeeh... Non mi ricordo che c***o stessi dicendo... Però comunque un più! Lei perché fa le circonduzioni con la mazza d'agosto? Io intanto non circoncido nessuno! Principe! Comprendo la sua provenienza sicula! Ma decapitare i cavalli non è una cosa... Boh... Concentrato! Ah! Fa training autogeno! Ma perché le tante? Prende ad uscire sempre! Vabbè! Sto solamente pensando nella mia intimità alla strategia da attuare! Strategi... Mi strate... Grazie! Farei un video... Preferisce della disco? Ma lei però non tira mai! Gioca solo lei! Cosa stai... Ho tirato! Lo sollevo? Sollevo... Attento al boom in campo! Ah... Se posso permettermi in principe... Questo serve anche a lei! Lo metto subito in saccoccia! Che valore diamo a questo lingotto? Glielo dico subito... 8! Non vale! Magia! Ah! Mi è prestigiatore anche lei! No... Sono solo un credino! Oscura il sole... Con passo leggiadro... E cavallerizzo! Ah... Movenze sexy! Bello! Io ho un posto in prima fila a godermi questo spettacolo! Certo! So che tanta gente in Italia mi sta invidiando in questo momento! Io no sinceramente! Sto bene dove sto! Non si indica però sempre lo scroto! E sembra essere l'unico metro di misura del barone! E' la unge incarnata! E' la? Unge incarnata! E' la unge incarnata ovviamente! La trans agonistica mi ha mandato... Eh... Cos'è che l'ha mandata in trans? Lui quando va in trans... Difficilmente torno indietro! Esatto! Dov'è il bastone di Murri? Ehi! 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 Oh! Murri piano! Che è il primo giorno! No dai davvero! Se ti rompi oggi! Sì! No oggi stai girando? Sì! Ha tolto... Barone! C'è forse bisogno di un insegnante di sostegno? Stupiscimi! 3, 2, 1! Ci penso io fidati! Mi piacciono gli uomini che mi sono a stupire! Sì! No! I lingotti no però! I lingotti no! Fuggi via correndo! I lingotti no però! Me li dia! La ringrazio! Tu hai detto fuggi via correndo! Ed esce di qua! Ha scelto la strada più lunga e ingombrante! Tutti stiamo guardando Paolo credo! Dio! Che c***o è! Assunto cazzo! Hai stirato le tende! Quindi la camera 1 è questa? Perché gli ho dato fiori? Puoi evitare di fare tutti questi schizzi? Perché Nadia, la nostra costumista, come si dice diciamo in generico tecnico... Bravo perché anche il trofeo della Piana dei Lampi non è semplice! C***o! Dovevi saltare! Cento volte di sicuro! Eh oh eh! Sempre fare una volta che vuoi mona! Conte! Allora! Dovrebbero essere sotto! Oh! Chiedo scudo! Ho visto cazzetti e test di gravidanza, mi sono un attimo confuso! Che cosa sta succedendo? Il secondo posto me lo sono meritato! Ok, stop! E andate a funk! Chiudiamo il video con... Vi ricordate quello? Stay fit! Stay fit, stay hungry! Allora, io faccio stay fit e voi stai chiedi! Vabbè! Posto cameraman! C'è la schedina su! Sei il recchio! Ah ma c'era anche quella che mi andava! Però è la prima volta che la vedo! Tre telecamere comunque! Sì! Vai! Dopo c'è anche Elio col cellulare! È diventato felicissimo! Vai! Aspetta che mi metto meglio! No, mi diamo un pugno in bocca! Aspetta, non mi levare! No, vieni qua Mauri! Ho capito, ma mi stavi per fare male! Faccio il bravo! Vai! Stay fit! E voi stai... Sembra un action man che si muove... Dai, dai che il regista è incazzato! Dai qua! Via! Scusa, via il ciak! Anzio! Ciak! Barone, la posizione dovrebbe essere questa! Grazie Jean Paul! Quindi avete di soldi eh? Sì! No! Bitcoin! No!